Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Oggi abbiamo una puntata, secondo me, molto importante perché abbiamo l'opportunità di avere con noi il presidente Massimiliano Messina, presidente della Flu SPA. Chiaramente non devo raccontare, diciamo, per somicame a chiunque cosa sia la Flu per il design in generale e per il design italiano in particolare. Avremo l'opportunità, col presidente Messina, di raccontare la storia di questo brand e di come, chiaramente, da dove è nato tutto e soprattutto come si sviluppa in questo, diciamo, ventennio degli anni 2000 e quali sono le prospettive per il futuro, visto che comunque è un marchio che, come vedremo, sta avendo tante evoluzioni in tanti campi differenti. In primis, Massimiliano, grazie mille di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Massimiliano, te lo dicevo fuori onda, lo ripeto, qui io ti chiamerò Massimiliano per una questione di podcast. Unirò il Massimiliano probabilmente con il lei molto spesso, però diciamo ci sarà questo ibrido, ma Massimiliano, per iniziare, diciamo, questo nostro racconto, a me piace sempre iniziare dall'inizio, cioè, ovvero di come la Flu è diventata Flu fondamentalmente e soprattutto dalla storia di tuo padre, perché l'altra cosa che possiamo anticipare a chi ci sta ascoltando è che Massimiliano è figlio di Rosario Messina, che ha fondato la Flu nel 1978, vedremo dopo quale tipo di percorso, e ora, diciamo, porta avanti questa tradizione familiare insieme alle due sorelle. Massimiliano, quindi partiamo dall'inizio, partiamo da tuo padre, dal percorso che l'ha portato dalla Sicilia poi all'Abrianza. Sì, mio padre, come dicevi giustamente, siamo siciliani di famiglia, risponde a un annuncio sul giornale, curiosito dal tema per un'azienda di design che era l'ABB, che allora si chiamava in realtà CEB. Viene chiamato quindi al colloquio e poi assunto come direttore, prima agente, poi direttore vendita di quella che è stata una delle aziende che ha fatto partire il design italiano. Fa un percorso all'interno del settore del mobile che lo porta ad essere contattato dalla Bassetti, quindi da un'azienda di biancheria, perché c'era questo nuovo prodotto per l'Italia che si chiamava Piumone, che la Bassetti voleva lanciare nel nostro mercato, perché era un oggetto che si usava principalmente nel nord Europa. Noi in Italia allora utilizzavamo ancora lenzuole coperte, cosa che tuttora facciamo in diverse occasioni, però allora era l'unico modo di dormire. Mio padre si appassiona di questa nuova avventura perché ragiona sul tempo di chi deve rifare un letto, che in quel momento erano principalmente le donne o addirittura la mamma, la capofamiglia diciamo, e capisce che rifare un letto col Piumone ci vuole un decimo del tempo rispetto a lenzuole coperte, quindi dice è un prodotto sicuramente interessante perché può regalare a chi lo usa diversi minuti di tempo libero. Quindi si butta in questa avventura, l'obiettivo come dicevo vendere il Piumone nei negozi di eredamento, l'idea vincente è stato capire che i negozi di mobili non erano per nulla interessati a vendere il Piumone perché era un oggetto di basso valore rispetto ai mobili e quindi a mio padre viene una similitudine con quello che stava succedendo nelle macchine che si stavano attrezzando delle cinture di sicurezza e così viaggiando pensa ma se le cinture di sicurezza si vendono nelle macchine io ho bisogno la macchina del Piumone e quindi l'idea vincente è stata quella di chiamare un architetto, Vico Magistretti, e chiedergli di disegnare un letto che fosse bello e pensato per il Piumone. Torniamo un attimino nel tempo, nel periodo, allora in Italia si dormiva su delle scatole di legno o di ottone dove veniva posizionato un materasso e di solito c'era una testata attaccata a parete. Dico questo perché se invece oggi noi parliamo di letto, mediamente ci viene in mente una cosa che è spesso in tessuto, che ha una testata attaccata alla base e che ha sopra il materasso. Questa è stata la forza di quello che allora è stato il nostro primo prodotto che è nata lì, che è considerato il capostipite dei letti moderni. Quindi grazie a questo oggetto è cambiata proprio la concezione di letto nel mercato italiano. Magistretti disegna un letto che sia bello col Piumone, dove la testata diventa anche l'imbottitura del Piumone, l'imbottitura del Piumone diventa anche la testata, e quindi la rende molto morbida e confortevole. Il letto è un letto tessile rivestito, in Italia stava cambiando molto la cultura, e quindi piaceva il cambiamento e si decide di farlo sfoderabile, ma sfoderabile dal cliente finale. Quindi la possibilità di cambiare il rivestimento del letto quando si vuole, allora si era solito di comprare due rivestimenti, uno per l'estate e uno per l'inverno. Viene lanciato il nostro primo letto e da lì, diciamo, inizia l'avventura. Tuttora il Natalì è il letto più venduto di flù. In questi ormai 43 anni di storia, 44 ormai, il letto più venduto di flù in tutti i mercati dove noi esportiamo, ormai esportiamo in tutto il mondo, sicuramente prova a immaginare come può essere diverso un americano rispetto a un cinese, ma in tutti questi mercati qua, il Natalì è sempre il letto più venduto della propria. Massimiliano, ti interrumpo per dare qualche punto di riferimento a cose che hai citato e magari chi ascolta non ha propriamente tutti i punti di riferimento. Quando hai detto che B&B prima si chiamava C&B è perché fu fondata da Busnelli con Cassina, e quindi all'inizio C&B erano le loro iniziali, e poi Busnelli ha acquistato il resto, perciò poi ha cambiato. Anzi c'è anche l'aneddoto che noi ripetiamo ogni tanto, che B&B Busnelli scherzava che l'altro avvistava per le banche che gli avevano fatto il prestito per tipologia. Ed è così. L'altra cosa che volevo sottolineare è che ancora oggi quando si parla di un letto di design, il primo letto che viene identificato per chiunque è il Natalì di flù. Cioè ha veramente rivoluzionato quello che tu raccontavi, l'idea di un letto che aveva la testata agganciata al sotto, e poi l'idea anche dello schienale imbottito, nel senso confortevole anche per rimanere a letto in altri momenti. Chiaramente, ora io faccio il parallelismo con la televisione, mentre negli anni 60-70 era una cosa di lusso che ce l'aveva uno in un palazzo, fino agli anni 70 cominciava a diventare anche un elemento che entrava nelle prime camere da letto, quindi il tempo che si passava al letto aumentava e quindi si avevano necessità di diversi tipologie di comfort. E l'altra cosa interessante che hai detto e che secondo me va sottolineata, è aver letto un mercato, cioè aver letto la difficoltà, tra virgolette, dei mobilieri classici. Una cosa che, tra virgolette, in varie epoche è successo varie volte per varie tipologie di prodotto, a non avere un appeal verso magari un piumone che poteva costare troppo poco rispetto allo sforzo che loro dovevano fare per vendere, anche perché fuori cultura di quell'oggetto, e l'idea di mettere tutto insieme e creare un'azienda ex nuovo. Un'altra cosa che... Poi ti chiedo perché si chiama Flu, cioè proprio perché il nome da dove deriva. Un'altra cosa che mi piace sottolineare è il percorso di vendita che ha avuto tuo padre, cioè io ho letto un po' di storia di tuo padre, ho letto che ha lavorato per Rinascente prima, poi per Rex, che poi all'epoca non si chiamava probabilmente Rex, di Elettrodomestici poi, per poi arrivare a fare, diciamo, il direttore vendite in Sicilia per C e B, poi andare a essere chiamato in direzione, quindi comunque una cosa che noi sosteniamo sempre è che le aziende come la vostra, che partono da un'idea, e poi riescono ad avere una storia di 43 anni con tanta evoluzione, tanta storia e tanta anche sperimentazione. La parte commerciale è fondamentale per dare linfa a quel tipo di sperimentazione e, diciamo, anche di possibilità di sbagliare, perché quando tu hai una macchina che commercialmente funziona bene, ti puoi, diciamo, tirare via quel 5-7% che dici questo se lo sbagliamo non fa niente, però proviamo a fare qualcosa di diverso. Non so se sei d'accordo con me, con questo. Hai ragionissimo, voglio dire. Tutto parte dalle... Cioè, se non vendi, non parti neanche, no? Tu hai parlato della storia del mio padre. Il mio padre era, forse, almeno sicuramente uno dei più grandi, se non il più grande venditore del nostro settore. La sua carriera o la sua storia è quella che di solito viene definito il sogno americano, che invece era in Italia. Cioè, fai conto che mio padre nasce da un benestante commerciante di patate in Sicilia, che però muore quando mio padre è giovane, quindi è costretto a ripartire da zero. Cioè, si trova da essere il ricco della Sicilia ad essere il nulla tenente della Sicilia. E da quel punto lì riparte col percorso che hai detto. Prima da commesso, poi da agente, poi da direttore vendite, fino a imprenditore. E questa è una delle grandi forze che abbiamo in Italia e che c'è nel mondo del design, perché le barriere all'ingresso, per usare dei termini un po' economici, sono basse a livello economico rispetto alla capacità di saper fare, di saper vendere, di saper inventare. Quello che dicevi tu riguardo al 5-6%, 8%, la percentuale che vuoi, però è vero che le nostre aziende riescono ad avere successo nel mondo perché facciamo innovazione. E quindi dobbiamo mettere in conto che nell'innovazione c'è quella che va bene e quella che non va bene. Cioè, quando lavoravo fuori mi chiedevano diciamo cosa si poteva fare nell'azienda dove lavoravo per aumentare l'innovazione. E io gli ho detto beh, se il mio stipendio è legato a quanti utili porto a casa quest'anno, è difficile che io faccia innovazione perché l'innovazione, il risultato lo vedi l'anno dopo o l'anno dopo. Quindi, diciamo che stimolare le persone in maniera diversa poteva essere un buon punto di partenza. Noi in Italia ce l'abbiamo nel DNA, cioè noi non riusciamo a fare due volte la stessa cosa nello stesso modo, facciamo molta fatica. Quindi è meglio valorizzare quelle che sono le nostre caratteristiche che sono proprio quelle di voler fare sempre una roba diversa. E questo è forse anche uno dei motivi per il quale nel nostro settore l'Italia è l'unico riferimento mondiale. Cioè, se tu paragoni il design alla moda, la moda esiste l'Italia, ma esiste anche la Francia, l'America. Così come nel food. Nei mobili, a parte pochissime cose, fuori dall'Italia, un po' sporadiche, ma l'Italia è il fulcro e c'è tutto il mondo che si ispira alle nostre aziende nonostante poi le nostre aziende a livello di dimensionare, a livello di fatturato, non siano fra le più grandi del mondo. Cioè, noi abbiamo in Italia i leader a livello di trend che però a livello di fatturato magari sono delle aziende medie. Sì, sì, no, ma banalmente, però dico un numero per dire, io so che Cassina, ne ci diamo un altro, non arriva a 100 milioni di fatturato, ci sono aziende che magari fanno imbottiti da terzisti e fanno molto più di 100 milioni di fatturato, però chiaramente stiamo parlando di un qualcosa che fa da riferimento a livello di tendenze e di quello che crea, come anche voi. Cioè, io non è che lo dico perché ora sto chiacchierando con te Massimiliano, ma io quando penso ai letti, io vengo a vedere prima cosa state portando avanti voi. Cioè, per me è il punto iniziale. Fa parte della nostra caratteristica è un po' capacità, fortuna. Effettivamente se vai nelle mostre di design, se c'è l'argomento letto ci sono i nostri prodotti, se non ci sono i nostri prodotti non c'è proprio l'argomento letto. che è un unicum perché se pensi ai divani o anche alle lampade, diversi sono i prodotti di riferimento e diversi le aziende. Mentre nel mondo del letto, effettivamente, abbiamo parlato della taglie, se dovessimo parlare di legno parleremo di Tadau, piuttosto che di gatteto volante nel metallo, i riferimenti del mondo del design per quanto riguarda questa categoria di prodotto, sono i prodotti che abbiamo voglia che parla. Ma signoriano, ti aggiungo, io sono un rivenditore di arredo, quindi diciamolo, vivo dall'altra parte e ti dico, secondo me, anche il perché. Fare design dove tu hai un blocco centrale rettangolare che è, tra virgolette, fisso e soprattutto le camere da letto sono sempre degli ambienti che si fanno giusto giusto quello che serve per fargli entrare le cose, sono delle sfide a livello di design elevatissimo, perché se fai poi un giro letto troppo largo che poi non entra nella stanza, piuttosto che una tessata, diciamo, è un oggetto difficile. Hai decisamente ragione perché quello che hai sottolineato sul fatto che c'è una parte importante del prodotto che alla fine non è governata dal designer, perché il materasso e la biancheria è un elemento che copre il 70% della dimensione del letto, ma che non è una decisione del design. Quindi il prodotto letto è estremamente difficile. In effetti, se guardi i nostri designer, la grande maggioranza sono italiani, perché abbiamo avuto probabilmente uno scambio di informazioni che è fondamentale tra aziende e designer, che deve essere molto profondo per quanto riguarda la categoria letto e questo è stato possibile solo con designer italiani. Mentre su altri prodotti è più facile anche per noi lavorare con designer internazionali. Sì, sì, è un aspetto chiaro. E poi, secondo me, l'altra cosa, secondo me, incredibile, perché è una questione, a questo punto torniamo, da un punto di vista economico, la camera da letto è sempre un elemento dove si punta, tra virgolette, storicamente meno budget, ma perché è dove ospiti meno persone, non so come dire. Quindi, anche lì, bisogna sempre stare più attenti anche al prezzo di uscita di un prodotto affinché poi abbia un risultato anche commerciale, diciamo, come idea. Esistono i divani da 40.000 euro, ora a memoria mia, non so se esistono i letti da 40.000 euro come concetto. Ma devo dire che sui letti io li chiamo campioni nazionali, no? Noi abbiamo parlato che in Italia c'è la flu e nel mondo del design fortunatamente il riferimento siamo noi. Ma fuori dall'Italia se vai su mercati consolidati come per esempio la Germania o la Francia ci sono dei campioni nazionali che hanno un non congnuno. Perché ti dico questo? Perché noi aziende influenziamo anche il livello di prezzo dei prodotti. La flu ha sempre avuto una mentalità di avere un prodotto con un rapporto qualità-prezzo estremamente interessante, ma fuori dall'Italia non è così. ci sono letti venduti in questi mercati che ti dicevo dove in realtà il 20.000 euro il 30.000 euro è letto non è solo il divano. Ci sono aziende che vendono letto e materasso a 100.000 euro. Non ne vendono tantissimi ma può essere però si fa anche in fretta a 100.000 alla volta a fare fatturato. Certo. è un po' il mercato che influenza noi e noi forse che influenziamo parzialmente il mercato. Massimiliano torniamo un attimo alla storia che stavamo raccontando perché ora abbiamo fatto una digressione su quello che fate a parte che non ti ho richiesto perché vi chiamate flu e magari ora alla prossima ci riprovo però quello che ti volevo dire era c'è stato questo inizio 1978 poi chiaramente come tutte le cose c'è un inizio in cui l'azienda deve iniziare ad avere il proprio consolidamento nel settore a inizio anni 90 tuo padre comincia a essere pure un punto di riferimento per il settore perché entra in Federlegno Arredo che poi all'epoca penso si chiamasse leggermente diverso fa parte comunque di un altro ente che era la Confindustria Brianza e poi avrà il suo tra virgolette in carico più importante quando diventa il presidente del Cosmit che sappiamo che è l'ente del Salone del Mobile l'ente fondatore del Salone del Mobile mi pare dal 99 in poi ti volevo chiedere un po' questa diciamo presenza proprio come figura di riferimento anche per gli imprenditori del settore come era stata vissuta in quegli anni e poi una domanda a te perché ho letto che sei del 76 non vorrei sbagliare quindi immagino che a fine anni 90 sono stati i primi anni in azienda quindi se questi suoi incarichi tra virgolette più istituzionali anche da un punto di vista del mondo dell'arredo abbiano dato pure a te la possibilità di inserirti senza diciamo sai quando uno ha un padre è così tra virgolette importante trovare il proprio spazio è una cosa che bisogna bisogna trovare il come insomma ma intanto ti confermo il percorso del mio padre la la sorredo è l'associazione delle aziende del mobile l'ha visto presidente per diversi anni la sorredo fa parte di Federlegno che è l'associazione del mobile ma anche come dice la parola del legno quindi delle foreste dei pallet e via dicendo ed è stato presidente anche di questa associazione l'associazione è proprietaria della società che organizza il sono del mobile che a tempi si chiamava Cosmit adesso si chiama Federlegno e lui sì ha fatto la presidenza in tutte queste tre enti e società e ha gestito quello che è stato per il passaggio dalla fiera nel centro città quindi nei padiglioni piccoli ad andare fuori a Ropero dove la fiera è diventata veramente un evento mondiale lo era già ma non con le dimensioni che ha assunto dopo e ai tempi lo scherzo ma non tanto scherzo era che andavamo talmente tanto bene che gli altri imprenditori hanno detto mettiamolo a fare il presidente del sono del mobile così si distrae dalla propria azienda questa era la battuta che con un fondamento di verità e in effetti anch'io ti devo dire io sono del 73 quindi ho iniziato a lavorare in azienda più o meno quando mio padre ha assunto il ruolo di presidente del sono del mobile e in effetti ero molto geloso di questa cosa perché lavorare in federazione è un lavoro non dico gratuito ma quasi lavorare in azienda sono le proprietà della famiglia quindi dico papà ma cosa vai a fare da quelle parti e lui mi ha sempre detto ed ha ragione aveva ragione che far funzionare il settore o comunque il seno del mobile a cascata il beneficio avevano tutte le aziende e quindi anche noi quindi diciamo che abbiamo trovato pace su questo argomento dopodiché io da figlio ho incominciato a lavorare fuori perché è fondamentale secondo me per farti le proprie esperienze e capire le proprie capacità perché lavorare con il genitore comunque crea uno scudo protettivo nel bene e nel male cioè non hai la possibilità di vedere i tuoi errori e comunque non hai la possibilità di vedere un feedback vero di quello che fai perché c'è sempre questo filtro dove gli altri si comportano con te sapendo che sei il figlio di quindi l'esperienza fuori è stata molto importante poi sono entrato in azienda perché avevo studiato su internet era il momento di internet c'era un bel progetto a mio padre avevo detto entrerò in azienda quando ci sarà un posto adatto alle mie capacità e da lì mi ha chiamato per seguire questa roba e sono sono entrato in azienda con l'obiettivo se vogliamo crescendo da figlio di dire tolgo un po' di pressione o di lavoro da mio padre in modo che lui si rilassi un pochettino di più in realtà come detto prima più io mi facevo carico di cose all'interno dell'azienda più lui si trovava dei lavori fuori dall'azienda perché comunque la voglia di lavorare lo spirito lavorativo era quello l'indole era quella e quindi poi purtroppo è mancato prematuramente e quindi non abbiamo avuto modo di arrivare a quello che invece riesco a fare magari con alcune delle persone che hanno iniziato a lavorare con noi e magari mi conoscono da quando sono piccolo e poi vanno in pensione e quindi poi io le riassumo perché comunque le persone di talento lavorano perché hanno passione noi fortunatamente ne abbiamo tante la cosa importante è quando smetti di lavorare diciamo vai in pensione e può essere piacevole nel ruolo giusto continuare a lavorare l'importante è togliere il vincolo delle ore al giorno cioè le otto ore al giorno perché come ti dicevo prima una persona che lavora con passione poi alla fine è quasi un hobby il lavoro se non ha il problema del tempo sì sì io penso sempre che il lavoro diventa tra virgolette un hobby quando tu il risultato o le ore il cartellino non diventano un obbligo poi magari fai le stesse otto ore però le devi fare perché tu quel giorno hai voglia tra virgolette di farle è quello che può succedere a un neopensionato piuttosto a una persona che magari fa l'imprenditore ha una seconda generazione i figli che portano avanti la cosa allora può dedicarsi all'aspetto magari che gli piace di più di quel lavoro e non magari a tutti a tutti quanti Massimiliano non potevo non notare il compasso d'oro che hai alle spalle diciamo alle tue spalle so che ne avete 22 tra l'altro voi siete stati tra i primi se non il primo anno proprio nel 2020 ad aver vinto il compasso d'oro alla carriera del prodotto proprio per il Natali quando diciamo fu indetto questo diciamo questo nuovo compasso d'oro che non c'era mai stato proprio per dare diciamo un riconoscimento a dei prodotti che avevano fatto la storia del design penso il vostro stesso anno ci siano stati anche l'arco dei Castiglioni il sacco di Zanotta cioè stiamo parlando proprio diciamo di quelle cose che quando uno pensa al design italiano è la prima cosa che gli viene detta pure perché siamo stati in ottima compagnia ti devo dire onorati di far parte di questo trio che hai appena detto perché l'arco di Castiglioni è la lampada per eccellenza del design italiano ce n'è tante però sicuramente è un'icona chi non ricorda Pantozzi certo che cade dal sacco è un must è un must un'altra cosa divertente giusto il parlo di questo l'arco non vinse perché praticamente l'anno prima aveva vinto un'altra lampada e quindi premiarono i Castiglioni se non sbaglio per una macchina del caffè cioè lo stesso anno è sempre stato un premio che ha avuto diciamo delle categorie delle logiche come cos'è però è uno dei premi più ambiti che abbiamo anche perché veramente si distribuiscono penso 11-12 compassi d'oro all'anno quindi una cosa forse uno dei pochi premi che ancora non è un premio commerciale se il prodotto è veramente innovativo è estremamente complesso riconoscere le validità di quell'oggetto perché se va in continuità col passato capisci se è fatto bene o no ma se è un'innovazione verimente molto spesso è molto difficile da capire dalla grande massa o anche se vuoi dai teorici perché molto spesso si basano sul passato per valutare il futuro quello che dicevamo prima dell'innovazione cioè ci sono alcune cose alcuni nuovi prodotti che quando li fai sai già quanti ne venderai e come li venderai e poi ci sono quelli che invece sono delle scommesse perché hanno all'interno degli elementi delle caratteristiche che in quel momento non ci sono ma che secondo te possono essere interessanti per esempio Natali era in questa direzione quando abbiamo parlato del piumone se abbiamo parlato dell'arco della flos portare la sorgente luminosa lontano dalla presa anche quello voglio dire non è non è stato un giochino e va bene io sul sacco della zanotta rischia che ci sia poco da dire perché ce l'abbiamo in mente tutti e sappiamo che caratteristiche ha sì è la prima seduta che non aveva tra virgolette una forma esatto è l'unica seduta che non è seduta quindi no ma hai detto sono stati molto coraggiosi a lanciarlo una cosa che hai detto benissimo è il fatto che alla fine si prendono in analisi dei prodotti talmente recente che ancora magari non sei pronto a capire che quei prodotti sono il futuro quindi in quel momento assegnare un compasso d'ora a un prodotto del genere è difficilissimo come cosa a capire in realtà erano delle varie varie proposte dell'agenzia creativa si cercava qualcosa che desse l'idea del morbido del comodo flu in realtà in francese non vuol dire esattamente morbido e comico incomodo ma è quasi un po più sfocato sfocato in ogni caso soffice dal punto di vista visivo ed è piaciuto proprio il suono flu e quindi hanno scelto questo il marchio questo nome e poi diciamo mi collego al nome perché poi nella vostra crescita diciamo di questi 43 anni avete tra virgolette poi dovuto scegliere un altro nome perché poi a un certo punto è nata nativo perché avete deciso di dare comunque una forma di branding differente a tutta la parte di passami vedi se è corretto sistemi parete giorno lampade che avessero tutto quello che integrava led e legno sì in realtà il punto di partenza è leggermente diverso noi stavamo guardando cosa succedeva nel mondo della dell'architettura e avevamo visto che negli ultimi tempi gli architetti preferivano nascondere la sorgente luminosa rispetto a farla vedere questo perché la illuminazione che arriva che ne consegue molto più morbida piacevole rilassante no la luce diretta e molto più la luce indiretta e molto più rilassante allora nasconderla per nascondere l'abbiamo detto proviamo a nasconderla nei moduli e da lì il nome nativo che vuol dire dividendolo naturale nat evoluzione della luce oppure nativo nel senso che nasce con la luce integrata quindi nativo di luce e ci è sembrato diciamo un tema interessante dovuto anche a come dicevi prima a una tecnologia emergente perché è chiaro che il led è una pasticca o può essere una pasticca che lavora 60 80 gradi quindi a meno complessità dal punto di vista di gestione di collocazione rispetto a una lampadina tradizionale si prestava meglio quindi essere messa nascosta diciamola così nei mobili e quindi abbiamo abbiamo voluto fare questo passo che anno era quando avete iniziato diciamo questa credo una decina d'anni fa anche per dare un riferimento quello che oggi tra queste led per noi è una cosa abbastanza quotidiana una decina d'anni fa i primi i primi led veri diciamo con efficienza ed efficacia abbastanza importante la luce era anche estremamente fredda volendo la luce dei primi led non era bellissimo e anche il fatto di fare della luce indiretta effettivamente permetteva di scaldarla con i colori dell'ambiente e mi ricordo quando abbiamo lanciato il marchio abbiamo fatto degli appartamenti a city life qua a milano ovviamente ho invitato i direttori delle riviste c'era questa questi tre appartamenti arredati coi nostri prodotti nativo e io cosa facevo non avevo detto che cosa facevamo facevo fare il giro della della dell'appartamento e generalmente mi apprezzavano i mobili ma poi finivamo seduti su un divano e mi ricordo la Francesca Taroni la direttrice di living che che mi dice no ma sai che cosa è è proprio una bella atmosfera che c'è in questo appartamento c'è proprio un un calore nell'illuminazione e lì come dire mi hai dato un assist ma non ti sei accorta mi manca qualcosa come magari mancavano le lampade perché eravamo riusciti a creare un appartamento completamente illuminato facendo fare fornendo soltanto con i nostri mobili e quindi dove la sorgente luminosa erano solo i nostri mobili che era effettivamente un passo interessante verso l'assenza dell'elemento lampada rispetto a creare soltanto l'ambiente l'ambiente decorativo e i mobili la cosa mi ha fatto piacere appunto che lei sottolineava l'atmosfera che poi voleva dire la luce no quindi mi stava valorizzando che la luce dei nostri prodotti alla fine non aveva niente in meno anzi forse creava un ambiente ancora più piacevole di un'illuminazione tradizionale è chiaro che quello era portare il concetto forse ai livelli estremi è molto più facile che ci siano degli appartamenti dove c'è la luce pensata con le lampade dove servono ma che ci sono anche i nostri prodotti che possono dare degli effetti luminosi estremamente interessanti ma anche lo stesso oggetto diventa più bello se è illuminato con una luce pensata per l'oggetto sì io penso che gli aspetti principali siano due uno che l'oggetto è più bello perché più affascinante anche il volume viene diciamo accentuato cioè soprattutto elementi snelli li leggi meglio si chiamano più articolazioni di luce ed ombre che ti fanno leggere bene l'oggetto e l'altra cosa che chiaramente nel vostro esperimento era un sostituire le lampade però nella normalità è bello pure entrare in un ambiente buio dove magari c'è un oggetto che rimane illuminato perché rimane sempre illuminato e ti dà quella luce come esiste la luce di servizio nelle camere d'albergo cioè quella sensazione di non entrare in uno spazio completamente buio ma in fondo ci può essere una libreria un qualcosa che ti dà quell'atmosfera iniziale poi chiaramente come detto tu non è totalmente sostituibile anzi non penso non sia nemmeno l'obiettivo di quello che realizzate e questa cosa si sposa a maggior ragione con le camere da letto ambienti sempre molto intimi dove chiaramente anche un oggetto illuminato diciamo può essere la luce necessaria in determinati momenti insomma come come idea la novità per esempio di quest'anno di nativo è un comodino che ha ovviamente la luce integrata e la luce parte dalla base del comodino questo la trovo una delicatezza verso il partner no tutti ti devi alzare magari non vuoi disturbare accendi la luce che arriva da sotto e quindi lei o lui continuano a dormire tranquilli sereni e tu puoi incominciare a fare quello che devi fare a me capita quando devo prendere gli aerei la mattina presto per andare dall'altra parte del mondo di non voler dar fastidio a mia moglie giustamente effettivamente questa soluzione può essere interessante si si è diciamo su quelle raffinatezze che poi dopo danno diciamo una forza al progetto e l'altra cosa ti volevo chiedere Massimiliano voi siete distribuiti diciamo nei negozi più importanti diciamo d'Italia e del mondo insieme nei cosiddetti multi brand di livello mettiamola così il fatto di aver creato una collezione più ampia e aver creato nativo che comunque dà comunque un anche un sostegno a livello di mobili a quelli che erano gli a quelli che punti vendita dedicati è quella che state intraprendendo sempre di più o comunque la base commerciale di multimarca chiamiamoli proprio come si diceva negli anni 80 è ancora fondamentale e credete che sia una strada che debba correre parallela grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Ti racconta. tutti. coccodrini. e a tutti. non sapevamo... grazie a tutti. grazie a tutti. avete un catalogo... è sempre più ampio... è sempre più ampio... come viene... come viene... la parte notte resta il core business della flow o diciamo questa parte living sta avendo un'importanza che sta andando a rendere tutta la casa alla pari capisci come come idea in realtà diventa estremamente difficile separare questi due concetti cioè ormai le case sono destrutturate e ti devo dire i prodotti hanno degli utilizzi diversi cioè non è vero che il letto è il posto dove si dorme basta ci fai bene altre cose così come tu dormi sul divano volte no tutte le sere ammetto ammetto il cliente ci chiede di prenderci cura di tutta la casa perché una volta che si è appassionato gli sono piaciute certi argomenti certe suggestioni vuole essere libero di poterle portare dove lui vuole vivere e quindi noi siamo da una parte costretti ma in realtà ci fa molto piacere prenderci di prenderci cura dei vari ambienti della casa non ultimo l'outdoor diciamo che ti faccio questo esempio per dirti cosa vuol dire il la libertà che vogliamo dare al nostro cliente di solito quando si va in outdoor che vuol dire fuori fuori da casa nei terrazzi nei giardini si fa una collezione dedicata noi abbiamo invece voluto integrare le due cose perché se il nostro cliente si appassiona di una forma non deve essere legato alla rigidità di dire ce l'ho in camera da letto rispetto a nel living o in giardini cioè dove la voglio la deve usare ok cioè quindi un diciamo un elemento più ibrido a livello di posizionamento più eclettico scusa mi è venuto e quindi per capire quindi i materiali sono comunque perché i materiali per l'outdoor a volte hanno dei materiali specifici per poter rimanere all'interno quindi parti dal concetto che quei materiali debbano avere lo stesso comfort alla fine del processo che se stai all'interno all'esterno non cambia nulla no te lo dico perché tante aziende hanno collezioni dove lo stesso prodotto ha una versione indoor e outdoor e detto banalmente tra di noi le versioni outdoor sono un po' più dure per esempio le sedute perché il dry foam può avere una durezza diversa io diciamo provandole ho questa sensazione invece voi pensate alla stessa proprio allora quello che riesce a portare al 100% è ovviamente l'estetica dal punto di vista delle caratteristiche dei prodotti a volte devi fare delle mediazioni ti faccio un esempio generalmente quando si va nell'outdoor spesso si usano le gomme indoor con una cuffia che le protegge questa cuffia in realtà cambia leggermente il comfort lo irrigidisce è vero quindi il comfort magari non è lo stesso altre cose altre volte invece o perché usi la dry foam o perché usi dei materiali diversi quindi il prodotto ha la stessa performance è un diciamo è un mondo che tecnologicamente si sta molto evolvendo e per esempio noi adesso abbiamo dei tessuti outdoor che in realtà vendiamo indoor perché prima il tessuto outdoor era molto plasticoso quindi poco piacevole faceva quello che doveva fare ma se potevi sceglievi altro oggi in realtà i nostri clienti vogliono indoor cioè in casa dei tessuti outdoor perché sono belli hanno una bella mano sono anche belli esteticamente e poi si portano tutte le caratteristiche positive dell'outdoor quindi l'antimacchia se ti cade qualcosa la puoi asciugare tranquillamente quindi c'è credo una convergenza di tutti questi ambiti in un unico hai ragionissimo anche il fatto che la tecnologia sta evolvendo tantissimo mi ricordo che fino a 7-8 anni fa per esempio per le colorazioni outdoor c'era il problema che lasciarle al sole le scoloriva e quindi tu materialmente dovevi fare per forza cose che non potevano avere che ne so russe dopo un po' il russo scaricava il colore fondamentalmente oggi vedo che invece perché la tecnologia aiuta e come hai detto tu è una convergenza arriverà al punto dove tu avrai lo stesso prodotto anche la cupia secondo me un giorno sarà superata tecnologicamente da poterlo spostare come si preferisce questo soprattutto in mercati particolari perché noi per esempio in Italia abbiamo comunque dei mercati io vivo a Firenze sì l'outdoor è presente ma è una minima parte di quello che può succedere penso alla California dove fanno 365 giorni di sole dove la gente sta più in giardino che in salotto fondamentalmente quindi è anche secondo me questa richiesta nata dalla globalizzazione del mercato che si sta avendo fortunatamente per tutto il design made in Italy sì assolutamente assolutamente ormai noi come aziende sempre di più nella parte estera diventa più importante l'Italia è uno dei mercati che seguiamo mentre prima era che l'Italia era predominante e vendrevi qualcosa in all'estero diciamo questa cosa diciamo fa parte proprio dell'evoluzione anche economica diciamo di una società come la vostra Massimiliano io ti voglio fare un'ultima domanda la legua al salone del mobile perché come abbiamo detto diciamo la flu è sempre stato un elemento di riferimento un'azienda di riferimento nel contesto italiano e ti volevo chiedere sì questi ultimi 10-15 anni iniziati da tuo padre perché quando tuo padre diciamo è diventato presidente del Cosmit non dimentichiamo che è stato lanciato il salone satellite per i giovani è stato lanciato nel 2004 il salone World Wild avendo diciamo il salone a Shanghai in altri punti del mondo ti volevo chiedere una considerazione su questi 20 anni che sono gli hanno fatto la differenza cioè la sensazione è che abbiano fatto veramente la differenza per la filiera dell'arredo italiano e come vedi dal mio punto di vista in maniera eccelsa quello che sta portando avanti Maria Porro e quindi tutto questo nuovo filone diciamo post-covid perché sono il covid ha fatto un po' da spartiacque tra il prima e il dopo ma allora il salone è una grande ricchezza per l'Italia e per il nostro settore il fatto che le aziende leader del nostro settore a livello mondiale siano italiane secondo me è molto legato anche al fatto che il salone è a Milano sicuramente anche questo deve evolvere le fiere intese come esposizioni ormai non sono più necessarie perché sono modi di far vedere i nostri prodotti nuovi anche senza l'aiuto di una fiera l'abbiamo fatto col covid ma il salone del mobile è un'altra cosa il salone del mobile è un evento mondiale dove degli appassionati dei professionisti, degli interlocutori che vogliono avere a che fare con il design o il mobile italiano si ritrovano e vedono delle sensazioni siamo una settimana nel salone, non vediamo l'ora di andarci è pazzesco come il 60% dei visitatori siano internazionali e parliamo di 200.000 visitatori quindi una parte che se vuoi muove di più della finale di Champions per dare il paragone o della morte del Papa ed è un evento che mi dicono i nostri venditori, gli interlocutori internazionali che in quella settimana è talmente forte che prendono l'energia per andare avanti un anno perché hanno talmente tanti stimoli che le aziende propongono all'interno di quei padiglioni per noi aziende è un investimento estremamente importante se pensi che noi più realizziamo uno spazio di mille metri da niente cioè partiamo da pavimento e andiamo in su e questo lo facciamo in meno di un mese però forniamo al nostro visitatore un'idea molto chiara dei nostri prodotti e degli ambienti che si possono creare con i nostri prodotti la Maria sta facendo molto bene, l'abbiamo voluta fortemente come presidente credo che anche per una questione di generazione abbia spirito e voglia di innovazione positiva e soprattutto sa creare squadra che nel nostro settore e in Italia è fondamentale io su quello sono un po' autore del fatto che il collettivo italiano sia sempre stato la forza di tutti cioè i momenti più atti del design italiano nascono da collegamenti personali cioè ora tu hai raccontato la storia di tuo padre che ha avuto a che fare con Busnelli tutto quel momento Busnelli, tuo padre Cassina è un po' autore del fatto che ha avuto a che fare con i nostri prodotti